che diciamo nonostante le istruzioni di di sera ma come dice 90 vari 90 Venezia la doppia promessa di pergosti è inferno non è un'altra domanda nessuno di loro ha detto e sto dicendo che non voglio che accade nuovamente la stessa cosa come accaduto per il pergosti perché domani sera domani sera accade il signore tra 24 ore il 66 perché signori non posso non posso fare del male a voi a casa sarete ancora all'interno perché questo non è un ciclino vicente non sarà più questa è quella che non sarà più vari dove interna vi dova questa catena l'apri lì dove interna questa catena l'apri lì per andare sicura e come avete visto è uscito l'interno è uscito l'acqua terra domandatemi perché siamo su canali che solitamente non ci siamo mai siamo sul canale 83 che trai che trai